Stiamo per partire per il nostro primo meditazione. Io ho fatto tutta una lista di meditazioni che noi faremo, però inizierò con quello più basilare. Io sto guarendo. Io sto guarendo. Allora, io vorrei dirvi che insieme noi abbiamo la capacità di elevarci oppure di tirarci giù, proprio perché c'è una coscienza collettiva di pensiero, di emozioni, che spesso nella fibromialgia oppure in altre malattie prevale la paura, prevale l'incertezza, la rabbia. E senza saperlo, noi ci tiriamo giù in gruppo. Quello che sono le mie paure incrementano anche quelle degli altri quando stiamo in gruppo. E oggi io vorrei che quello che noi facciamo in gruppo qui ogni giorno per tre minuti, iniziando da ora, ci tira su, ci solleva, ci porta su un altro livello di onde cerebrali. Quindi, respiriamo, inspiro dal naso e espiro dalla bocca. Prendiamo tre minuti per noi stessi. Prendiamo tre minuti in cui ci avvolgiamo nella positività, nella speranza, nella fiducia e diciamo, io sto guarendo, io sto guarendo, questa guarigione è per la mia mente, per il mio corpo e per il mio spirito, qualsiasi le mie difficoltà, patologie, stress, paure, io sto guarendo. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inizio a percepire anche gli altri in linea con noi. Inizio a percepire anche gli altri in linea con noi. collegati a questa energia che tutti gli esseri umani condividono. Inspiro e espiro. Io sto guarendo. Io sto guarendo. Sentite, io sto guarendo. Io sto guarendo. E completamente nelle mie facoltà di incidere e di potenziare le mie capacità di guarire. Io sto guarendo. Io sto guarendo. Io sto guarendo. Io sto guarendo. Inspiriamo, espiriamo lentamente, in gruppo ci facciamo ancora più forza, non avete paura, io sto guardando, io sto guardando. Noi abbiamo fatto i nostri tre minuti, vi siete presi tre minuti per voi e vi ringrazio e ci vediamo domani, stacchiamo e amiamoci, tre minuti, ciao.